Il show di Monza Rally attrae i ritori da tutto il mondo e è uno dei miei ritori favoriti. È ritorno durante un settimo settembre e è creato di due tipi di testi, le speciali e il show di Rallymaster. Le speciali sono ritori di attacca, sono ritori sui ritori e i ritori sono supportati da loro co-motivari. La grande cosa di questi testi è che la ritoria non è limitata all'attacco ufficiale ma anche la parabolica Monza, anche la parabolica, mentre il show di Rallymaster è ritorno sul giorno finale e è creato di una serie di ritori di ritori. I ritori ritorno al stesso tempo su due circoli speculari situati tra la start e la pitlane. Il vincente va alla prossima ritorno fino alla fine ritoria. Il vincente va alla prossima ritori di ritori di ritori di ritori di ritori di ritori. Il vincente va alla prossima ritori di 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 r Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.